Sono un pirata, sono un signore, tornato all'Arenella, dona sorrisi e generosità. Sono un pirata, sono un signore, ma vivo di cose semplici, vivo la vita. Recita così il brano di Julio Iglesias per evidenziare di un pirata che alloggia l'Arenella ed è tornato dopo quattro anni conquistando i bagnanti e le anime buone. Il pirata ogni anno, da vent'anni, monta la sua famosissima capannina. Sono quattro canne di bambù, utilizzando le lenzola bianchissime e preziosissime di 70 anni fa della nonna, ancora come nuove, di pregio come la manufattura di un tempo dimostra essere longeva e di tutt'altro livello. Il pirata si chiama Gianni per gli amici. Il seracusano è trapiantato a Firenze da oltre 30 anni, ma che puntualmente ogni anno per le sue ferie torna nella sua amata spiaggia e monta la capannina con tanto di bandiera da pirata. In verità, non tornava da quattro anni, prima per il Covid, poi per vicissitudini personali. Ha infatti grandi storie dietro di sé che pochi conoscono perché è a pochi che lui le confida raccontandole una delle quali è davvero un tesoro prezioso. Il pirata dona sorrisi e ospitalità a chiunque lo vicino ed è famoso, tra i frequentatori dell'Arenella per il suo rito di preparazione del buonissimo caffè che prepara con minuziosa cura e con la schiumetta di caffè e zucchero. Da tutto il mondo i turisti che hanno interloquito con lui lo ricordano sempre con tantissimo affetto, sempre e ancora superfatti da un cuore grande quanto il nostro amare che lo ospita. Con il pirata capannina soggiorna una regina, una sua amica storica, che è di rara bellezza e bontà d'animo, ma ci sono anche il suo migliore amico e a turno gli assidui periodici visitatori, a tutti riserva il suono del corno ogni qualvolta qualcuno arriva o se ne va. Tutto si svolge con quotidiana tranquillità, senza artefatti di nessun tipo, solo il tempo speso bene a godersi l'ottima compagnia e il sapore della genuinità di chi è sincero. Non mancano serate in spiaggia dove ognuno porta qualcosa da condividere e si passano le ore all'insegna della spensieratezza e delle risate. Quest'anno però un nido di tartaruga marina e una volpe hanno fatto la differenza, rendendo la storia ancora più eccezionale. Inspiegabilmente la prima notte una volpe si avvicina a lui e Gianni, da buon ospitale, le offre del cibo, le parla, le dice che se lo vuole deve prenderselo le sue mani e lei lo fa. Così tutte le sere l'appuntamento con la volpe è fisso. Un volontario del WWF che quotidianamente fa le ronde a tutela del nido di tartaruga rimane piacevolmente stupito da questa forza della natura. La volpe è predatrice delle uova e quindi consiglia al piranto di coinvolgere anche i bagnanti della spiaggia affinché la volpe si salsi così, affinché Giulia non mangi il preziosissimo carico custodito nel nido. Poi tra i tanti bagnanti un uomo buono, Paolo, regala una rete a protezione del nido. Passano i giorni con tanti momenti felici fatti di piccole cose come pulire la spiaggia dai rifiuti che vengono lasciati sulla sabbia, qualche giro in kayak e processioni di amici nuovi e vecchi che fanno a lui visita. Ma tutto questo ha uno spirito, un genio sloshi che sa di libertà e sale e celato tra le stelle perché la libertà è infinita e in una vita troppo breve non va sprecata. Al pirata Gianni da parte di tutti noi un grazie grande come mare e cielo che si specchiano nel suo immenso perduto. A lei la sua amata che non c'è più, che nella capannina non c'è mai stata, questa dedica più grande il cui spirito riecheggia tra le onde di queste bellissime sponde d'oro e d'argento la cui voce è quella del mare.